Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Dopo, mai, perché non avevamo mai fatto un minuto o tre insieme. Sono qua con la Ginger e la Chani. Beh, le ho conosciuto ormai. Siamo qua per fare, dopo una vita, un mukbang finalmente. Sempre con roba che stanno un po' addensate. Adesso mangiamo asiatica. Abbiamo preso, dove hai buttato via le carte ovviamente. Erano noodles, ramen, al bollo, ecco. Scusate. Non importa. Poi avremmo le arachidi che sono imboccate là in fondo. Che abbiamo finito. Che hanno finito, perché non ne ho neanche usato. Non dire birbina. Io non ho mangiato neanche una. Io ne ho lanciato una dalla terra. Esatto. Poi questi fantastici pochi alla fragola, che saranno anche di dessert praticamente. E il marshmallow. E questo... Il marshmallow sono nella borsa che li tiriamo fuori dopo. E questo. E quella cosa fantastica che è tipo il tè bianco. Tè bianco. Al mirtillo. Esatto. Ma bando alle cianze e manzioni. Che si stanno addensando effettivamente. Che potaccio. Sono caldi. E' bollente, ma sembra che stiano fumando. Mi metto a disagio questo bicchiere. Basta che non svieni. Da fatto che non li mangiugo. Effettivamente. Non avete idea. Dalla serata d'alestio io. Esatto. Quella cucchiaiata. Anche quella miseria cucchiaiata. Madonna. Triste. Assaggiamo questo vino, tra virgolette. Vai. Grazie a tutti. Oddio, che bel colore. E' rosa. E' rosa. Ormai tutta a dire la mia camera. Ah, è vero. Devo ancora osservarla. Dai, io no. Grazie. Sentiamo come... Ti odio. No, era per dire che il nostro amore per i rosa. Oddio, è buonissimo. Stare buono. Probabilmente fa un male cane. Guarda, vado a vederlo. Dolcissimo. E vi dico che 8,8 di carboidrati. E' vero che fa male. Cioè, come mangiare i olimposti? Basta capire. Basta guardare la lista degli ingredienti. Se è troppo lunga, vuol dire che fa male. Ah, giusto. Basiamaci su questa cosa. No, ma è vero. Le cose naturali non hanno ingredienti. Non hanno tanti ingredienti. E le cose naturali sono le uniche che non fanno male. Vabbè, dici per una volta alla fin fine. Sì, esatto. Come se io ieri non avessi già mangiato all'eritrea o al bar. Vabbè, ma non è... Ma mani tutto carne, per niente. Carne insalata. Non dovrebbe essere confezionato. Ho rischiato di perdere la mia maglietta preferita perché mi sono schizzata col sugo e non vava via. Che palle. Fortunatamente la salvata. Vabbè. Sarò curiosa di vedere cosa esce fuori comunque. De che adesso? No, no. Sempre dei colpi di. All'edatto, ritorna ai vecchi discorsi. Sì. Effettivamente, se non è il mio primo remake, sono curiosa anch'io. È il tuo primo remake? È il suo, sì. Oh cacchio. Ho seguito tutto a fare remake da anni, quindi... Lo fa stavo sentire. È il mio primo remake. Il mio è al quarto, mi sa. Cioè, se avessi avuto il tempo di fare Obi quando lo cercavate, il mio primo remake sarebbe stato Spring Day. Infatti. Beh, ma tranquilla che vogliamo fare Young Forever. Ti diamo già scelta per Jimin. Oh mio Dio! Nel senso che tu decidessi, ti diamo scelto noi. Ragazzi, ma io con Young Forever piango solo a sentire la canzone. Ah, è bellissima quella canzone. Infatti è bellissima, quindi piango. Eh, non piangere. Sarà del tipo così. Io non volevo fare questa cosa. E invece? Eh, perché gli hanno dovuto spostare... L'importante è che non sia però durante la sessione. Beh, ma tanto ore lo facevamo, prima di aver finito in monsta. Quindi dopo. Poi la risolta, il Big Bang. Ho sentito. Mamma mia. Ma tu il quarto perché? Come baby? Happiness? Ah, non li ho contati happiness. Con il baby ho contato happiness al quinto. Ma io ne ho fatti altri in mezzo. E dove sono? Cioè? Bella domanda. Dove sono? Come? Sono rimasti in sospeso. Poi ho fatto un video horror. Un video amoroso con un cosplayer. Ah, ok. Strabello quello. Molto romantico. Ci sono io sul letto che faccio questo. Sì. me lo ricordo molto bene. Beh, io vado a bermi il brodo. Sapete com'è? Vai. Vabbè, lasciamolo alla sua intimità. Ma... La sua intimità. I pochi intanto. Certamente. La tua. Quindi va bene. Beh, io prima di passare ai video remake del K-pop faccio una roba di monorexion. Quindi... Sì, lo so, quelli li ho visti. Ah, come li hai visti? Come come li hai visti? Finalmente che non guardo mai i tuoi video, però appena ti dico, eh, ti l'ho visto da come l'hai visto. Ma li hai detto i tuoi di tutti. E poi, infatti, non guardo i tuoi. Non ti ha detto che non guardo i video? E te che ne vedo alcuni? E mica li posso vedere tutti 823. Io sono talmente guti in te che guardo solo quelli dove compagno io. Che bella. E poi diti su a me. Poi diti su a me. Guarda la vostra vita. Questa me la segno. Io almeno ho guardato anche gli altri. No, non è vero, dai, ho guardato anche io qualcos'altro. Ho guardato tipo What's in my phone. Vabbè. Poi, tutti i miei video ne ho guardati tutti. E ho guardato quelli super natural. Natural. Hai visto che Jensen è a Roma? Certo che ho visto. Sto morendo. Le curiosità su Pennywise. Qualcun altro che adesso non mi ricordo. Ne ho visto un po' però. Non guardate. Ah, ok. Non so che lo volevo. Ho visto la 3 e il top. E ho cominciato da debussarmi la fragma. Sono buoni? Sì. Ero anch'io adesso. Perché altro sono rimasti gli spaghettini. Quindi devo fare schifo. Di remake, di video. Ah, devo andare a action? Devo andare a action. Comunque voglio fare Gotha Boy, quindi preparati. Adesso è che te stai pensando. Adesso mi dobbiamo imparare tutta la coreografia? Sì. No, non hai capito. La Jessica si imparà la coreografia e poi le insegna a me. Io l'ho già imparata da sola. Eh, io non sono in grado. Non neanche. Io guardo i tutorial e ho letto una foto. Quindi quella non c'è. Adesso hai tutta quella gente. Ah, ok. Io trovo. Tu trovi. Ma vuoi fare a modo di video solo coreografia? Ah, che cari. Solo coreografia? Eh, le parti vanno troppo schifo per i miei piani. Dove faremo su happiness? Chi vi prende a proposito? Abbiamo ancora dei piedi. Perfetto. Che buona è la cradula. E avete i video ufficiali da fare? Quando? Sa. Questo che viene? 19? Top. Mi sono a Bologna. Ah, ok. Eh, magari. Stavo per dire che se avessi come chiedevi, pensavo volessi essere te. Eh, ma magari infatti è che c'è un capone della Lea. Ah, mi sa che me l'aveva anche detto. Vabbè, ma quel piano lo chiediamo. Jessica? Beh, se la voglio. È anche quella sola. Ah. Anche sì. Eh, ma mi sentirei un po' un disagio. Perché lei è brava a ballare. Vabbè, stiamo a cagare il cazzo, ragazze. Puoi bippare le parolacce, però non avete un po' troppo. Ma dai, non ho iniziato il video. Beh, ma tanto... Ma ieri mi trovo così tanto male, scusami. Eh, hai provato. La sapevo meglio di te, quindi... Ma cos'è? Fatene qualche domanda. Ti canto a provare da sola i vari spostamenti di posizione in tutto è un pochino difficile. Che figli? La scatola me la riprendo, ve lo dico. Beh, immaginavo. Quindi le hai presi, poi le hai travasate. No, no. Le hanno venduti così. Però la scatola me la riprende lo stesso. È segnato da... Oh, come si chiama? Madonna, benissimo quel posto. Sì, ci vado pochissimo, però... Io vado ogni volta che devo portare qualcosa da te. Quei foto sono quella che devi portare i dolci, quindi... Sì, di solito sì. Sigillo di garanzia. Adesso spacco qualcosa. Grazie. Questo è amore. Che buoni quel pochino. No, davvero? No, no. Dovevo fare tipo la confezione a massi. Oh, facciamo una foto tutte con le fragoline. Ragazzi, non sto scherzando, tirate fuori le fragoline. È un po' brutta, perché la mette le taccolette fuori le fragoline. Che figlie. Scegliamo il filtro. Scusate, io li tiro fuori, facciamo prima. Brava. No, sono tre, dimmi che sono tre, ma sono quattro. Eh, vabbè, fa niente. Ma sai il pure? Ovvio. Ok. Chi doveva farla, se no? Dopodio, ma farei le quattro ottenuto l'applicazione... Della vita. Che si fa figa anche se sei struccata. Paola salvezza. È vero, è vero. Ora che gnocca. Aspetta che mi prendo la mia fragolina della vita. Facciamo fai quella sinistra. Non lo so, stavo a pensare. Ci so, provo, ci si proverà. Ragazzi, perché voi non avete le fragoline? Non ve lo dovete spiegare. Eh, perché forse dovevi sistemare... Senti, io ho messi tre secondi, adesso ne metto venticinque. No, perché devi prima guardare. Ma prima di mettere il coso, devi controllare che è. Che roba flash. C'è lei? È lei. Che super grazie, non ho cercata. Anche la borsa. Ma ci sono io. Non ho mandato quanto le mangiate. Ora. Non dico niente. Sono velo riccata. Sono proprio. Sono scantane della menopausa, lei. Che direttivamente. Sì, sì, sì. Come se sì. Che so che vuoi? Dovevo vedere se... Eh, lo so. Un vecchiamento prego. Sì, era la mia pancia. Anch'io. Non è neanche la cuore, quello dì. Però ho sentito un brusio. Poi quando l'hai fatto notare, allora ho capito. Ma il video di Call Me Baby. Mmh. Call Me Baby. Che ti aveva passato la Giulia. Alla fine che l'uso ci hai fatto? Io pensavo dovessi metterlo in qualche suo. Sop. Che video? Non dirò i miei obiettivi finali. Dillo. Che amato? No. Cos'è? Inoltre che è già da 7 secondi che faccio... E lei... La 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 la. Ma io sono... Ho cominciato a parlare. E qua c'è... L'ho fatto migliore e te le facevo io a Ele. Veramente. Mi sono resa a conto che c'è proprio una bravura. Ho visto. Cosa? C'era una roba con un avocado. Non vi ricordo dove ho vederti giù. L'ho detto... Cacchio. Dov'è la tua annunzione di... Quella che mi chiedo anch'io. Dov'è che sono? Ti giuro è bellissima quella cosa. Guarda, è molle. Guarda, è molle. Basta l'ultimo dolcetto qua. Che buono. Io ci ho sempre saprato. Tu ormai hai un frago la dipendente. O anche quelle vere se volete. La mangiate, vado. Anche io. Ma cosa stai facendo? Allora. Ovviamente lei salva tutto. Cioè salva tutto il trash che posso riservare. Ah, Maria. No, vabbè, è un'ultima. Vabbè, non vado. Mi vorrei essere buoni, però, ai marshmallow, o comunque sciolte al fuoco? Sottimiamo a me. Vado. Se davamo fuoco ai marshmallow. Diamo un po' più. Se davamo fuoco ai marshmallow. Come sono buoni? Sono buonissimi. Sono buoni. Che l'ho fatto? Sembra una cosa... Esatto, cioè... Buono. È buono. Però io mangeria anche gli arocchi. Ah, ne hai ancora. Certo che ho ancora. Wow, che bulla. Vai, ti chiami. No, non dirlo. Va bene, ma posso più. Ozie, ozie. Mi stai colpendo. Che vulgar. Cioè, va bene. Quanto scopo tu ti dici una cosa. Io non ti ce l'avevo pensato a sonda sessuale, invece hai pensato a su. Ma scusami. Io non ti dico niente. Parliamo a lei. Tu lei. Tu lei. Tu lei. Allora sì. Beh, adesso dobbiamo fare le alternative maggiore alle arocchie. Guacamole. È guacamole. C'è una arocchide bruciata, la voglio io. Vai, vai. È fuori. Scendellissima. Sembrava stra-orror. Cavolo, è la carbonizzata. È noi. Vediamo gli arror. Tutti è meglio. Infatti, io noi, noi due, abbiamo un arocchie. Eh, scusate se sono una pippa. Volevo dirlo, infatti, ma non pensavo di... Tutte le mie amiche odono gli arron, quindi è una tragedia. Tranne te. Tranne, io che sono la sua preferita per questo. Trè. Bene, comunque, fateci sapere nei commenti se avete assaggiato anche voi qualcosa di quello che c'era presente in questa tavola, almeno una volta nella vostra vita. Vabbè, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ovviamente. Ah, e iscrivetevi al suo canale. Al suo canale, perché si spera il prima possibile, metterà un remake molto interessante. E poi ci sono io che tra le tre non ho neanche un canale. No, esatto. Però ho un account Instagram se volete. Menomale che non sono a fuoco. Non sono a fuoco. È una bella foto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.